Alla vigilia di Braga a Napoli, Rudy Garcia è sembrato un pochino innervosito, forse, dalle domande, dalle critiche, viene un po' messo in difficoltà, come è anche naturale che sia, perché il Napoli, e non solo per la mancata vittoria e la prestazione contro il Genoa, sembra diverso da quello della scorsa stagione. Un Napoli difettoso, un Napoli con dei problemi, Garcia non si è nascosto, ha detto 5 gol subiti nelle prime 4 partite, siamo al quinto posto, tra l'altro gol presi in maniera sempre diversa, quindi forse stiamo anche difendendo bene e concedendo poco, però succede. Insomma, sembra essere lontano, Garcia, dalla reale comprensione, piena comprensione dei difetti e di quelli che sono i problemi, e quindi di quello che si deve fare per migliorare. Ma dicevo, un po' innervosito, da quello che ho letto nella trascrizione della conferenza stampa, come a dire, insomma, lasciateci lavorare, adesso non è che è tutto quanto da buttare via, non stiamo già andando male, ecco, il problema è aspettare di andare male prima di rendersene conto, eventualmente. Poi è chiaro che il Napoli non può assolutamente fallire una partita come questa contro il Braga, perché è l'esordio in Champions, perché è una trasferta, ma è una delle partite più semplici, dovrebbe essere una delle partite più semplici del girone, per cui, anzi, forse è proprio una partita più semplice, vedremo, ma sulla carta certo non si presenta come la partita impossibile e non si può certamente partire male. E quindi, se vogliamo, proprio questa partita potrebbe rappresentare il punto di svolta. Se il Napoli farà una buona prestazione e magari riuscirà anche a portare a casa tre punti importantissimi, allora forse non è iniziata davvero una tendenza di peggioramento nel gioco da parte del Napoli e García sta capendo quello che deve fare. Se invece dovesse andare male, allora siamo in piena tendenza di peggioramento e García sta forse rovinando un po' tutto. Questo al di là dei vari interpreti e dei legittimi dubbi sull'impiego di Lindström, Kakuste e soprattutto Nathan. Impiego o non impiego, cioè giocano troppo poco per il momento e non si capisce che apporto stiano dando possano dare di qui in avanti. Sicuramente più disteso e più sereno Inzaghi alla vigilia di Real Sociedad d'Inter. Sembra anche più preparato, è sembrato anche più preparato sulla squadra, su come gioca. E naturalmente il fatto di ritornare in Champions League da finalista è anche qualcosa di emozionante in un certo senso, non da vincitore per carità, ma comunque ci sono tutti gli occhi puntati su Inzaghi e sull'Inter perché faccia bene con tantissime aspettative. D'altra parte dopo il derby vinto e stravinto in quel modo non si può fallire e la squadra dovrà dimostrare di riuscire a gestire a volte le montagne russe emotive di certe partite e di stare anche bene fisicamente in chi scenderà in campo tranne appunto i titolari assenti, soprattutto Cialanoglu che si è infortunato e giocherà a Slani e in questo Inzaghi è stato categorico, piena fiducia ad Aslani. E come sempre Inzaghi tiene l'attenzione molto ferma sulla prestazione da fare, sull'impegno da mettere senza voli pindarici, senza dare troppo peso a quello che si è fatto in precedenza. Quindi massima concentrazione richiesta e pretesa da se stesso e anche dai suoi giocatori perché non si può scherzare neanche minimamente con la Real Sociedad per di più in trasferta e quindi sarà sicuramente una partita difficile, complicata ma con l'Inter che parte ovviamente favorita. Ed anzi bisogna anche sottolineare come Inzaghi dovrà essere bravo, Inzaghi e i giocatori dovranno essere bravi a gestire proprio questa etichetta di favoriti che accompagnerà l'Inter praticamente per tutto il girone, quasi in tutte le partite ed eventualmente anche più avanti perché dopo che hai fatto la finale tendenzialmente sei davanti a qualsiasi avversario sulla carta. Anche se in realtà non è così perché ci sono avversari decisamente più forti a prescindere dal piazzamento della passata edizione e quindi appunto sarà difficile affrontare emotivamente, mentalmente queste gare. Dopo il pareggio del Milan, il pareggio della Lazio che comunque non sono risultati da buttare via Inter e Napoli sembrano sulla carta obbligate a partire con una vittoria. Sarà così? Grazie.